buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video relativo al corso di preparazione del tfa sesso ciclo allora attacco la mia amata tastiera digitale che mi permette anche l'inserimento eccola qua cioè con la quale posso direttamente scrivere allora andiamo tfa sesto ciclo vi avevo lasciati con la teoria dell'attaccamento quindi in precedenza abbiamo visto le teorie dell'attaccamento oggi vedremo le varie teorie relative alle rappresentazioni sociali allora il format che darò che è molto piaciuto a diversi colleghi e quello abbastanza simile alle prove quindi ci saranno delle domande da parte mia e vi darò anche delle risposte allora la prima cos'è la scala degli atteggiamenti di renzis likert sono sicuro che molti di voi non saprebbero rispondere a questa domanda ma state qui proprio per questo e insomma nel corso di questa video diretta avremo la modalità la possibilità insomma di trovare le risposte ad ognuna di queste domande allora intanto lui era un educatore quindi questo ve lo dico per conoscenza personale ed è un approccio è un approccio centrato sul soggetto il quale risponde ad un ad una affermazione cioè gli viene posta un'affermazione risponde ad una affermazione indicando quanto è d'accordo fatemelo sottolineare bene questa scala va da 1 a 7 dove 1 è il massimo accorto quindi mettiamola tra parentesi la scala va da 1 dal valore 1 al valore 7 e il valore 7 invece corrisponde al massimo disaccordo disaccordo allora invece seconda domanda cos'è a questo punto il metodo usiamo in rosso così non c'è bisogno che lo evidenzi di luis luis tarston allora è un approccio ovviamente poi potete andare a approfondire quello che vi dico io per motivi di sintesi vi propongo queste domande vi propongo delle risposte poi voi ovviamente potete andare anzi vi suggerisco di se avete il tempo di andare ad approfondire il tutto non mi ricordo che lezione è sicuramente abbiamo fatto la teoria dell'attaccamento forse vi ho inserito anche qualche video relativo al nuovo pay adesso avevo individuato alcune tematiche importanti perché alcune di esse insomma su alcune di esse voi potreste essere in difficoltà e allora conviene andare andare ad approfondire e niente poi datemi ovviamente feedback perché ovviamente questo corso gratuito riguarda solo una fetta degli insegnanti cioè solo coloro che insomma si stanno preparando al tfa sostegno è un metodo questa volta centrato sullo stimolo e come funziona delle persone che devono giudicare individuano delle affermazioni che rappresentano un atteggiamento quindi vengono individuate le affermazioni che rappresentano un atteggiamento poi viene costruita una scala da somministrare al soggetto il quale poi deve scegliere tre o quattro affermazioni quindi di tutte queste affermazioni che vengono individuate e queste affermazioni rappresentano un atteggiamento ok questo diciamo è lo step A lo step B il candidato seleziona tre o quattro affermazioni che rappresentano il proprio punto di vista il suo punto di vista il suo punto di vista ricordiamo che queste affermazioni sono anche rappresentative di un atteggiamento e in base poi alla scelta la selezione che si fa che fa il candidato quindi sulla base di tale scelta si attribuisce un punteggio allora possiamo fare una terza domanda a questo punto che 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 vi va ad aiutare che va ad approfondire e a chiarire quello che abbiamo detto poc'anzi che cos'è un'opinione questo punto questo punto potremmo qualcuno potrebbe chiedersi ma questa opinione cos'è allora la possiamo definire come è un atteggiamento di referenza che riguarda le aspettative e le previsioni in relazione alle conseguenze di determinate azioni e che è possibile verbalizzare mi spiego meglio quando noi ci creiamo un'opinione noi cominciamo ad avere un atteggiamento preferenziale relativamente a delle aspettative in relazione a quelle a quell'opinione che abbiamo ovviamente un'opinione è anche una forma di aspettativa o un'opinione buona penso che mi posso aspettare da quell'evento qualcosa quindi è una previsione che la persona fa quindi anche alle conseguenze di determinate azioni ed è possibile verbalizzare nel senso che è possibile dire cercare di spiegare la propria opinione ad esempio se oggi una persona e quindi manifesto un atteggiamento di odio che cosa farò prevederò un comportamento negativo e quindi andrò a esprimere un'opinione quindi l'opinione e viceversa anche è strettamente correlata all'atteggiamento cioè quando noi ci facciamo un'idea positiva o negativa di un qualcosa e quindi si creano delle aspettative positive o negative relativamente a quel qualcosa andiamo ad atteggiarci in relazione all'opinione che ci siamo fatti quindi se il comportamento che cosa può accadere questo è un esempio allora odiamo di conseguenza ci aspettiamo cioè andiamo a prevedere un comportamento negativo prevediamo un comportamento di quella persona se può accadere che le nostre previsioni sono esatte le nostre previsioni non sono esatte e quindi la persona si comporta non esatte e può capitare ad esempio che il soggetto si comporta meglio del previsto in questo caso sicuramente sicuramente può capitare qui io inserirei opinione che poi diventa un'opinione d'odio in questo in questo schema che cosa ha schiuso essenzialmente che cosa succede che il soggetto si comporta diversamente lo andiamo a rivalutare e quindi il comportamento che è diverso dalla nostra previsione va a modificare l'opinione ovviamente non diventerà un amore però la persona ad esempio potrebbe risultare meno antipatica poi ovviamente questo ciclo è infinito ci sarà un altro accadimento un altro avvenimento quindi avverrà un'altra previsione potrà accadere insomma che ovviamente io qui ho scritto esatta non esatta il soggetto si comporta meglio del previsto ma il soggetto potrebbe anche comportarsi peggio quindi anche se noi avevamo un'opinione negativa addirittura la nostra opinione può peggiorare quindi ecco perché non ci sono poi tante sfumature di quello che può accadere ecco perché avevo creato una freccia verso l'alto una freccia verso il basso quindi dicevo tutto questo si sviluppa su diversi livelli quindi verso destra andiamo a vedere il singolo comportamento e le singole previsioni verso sinistra le andiamo a vedere nell'arco temporale perché poi nell'arco temporale ce ne saranno tante quindi ad esempio si crea una situazione di minore antipatia vi è un altro evento faremo un'altra previsione potrà essere di nuovo esatta non esatta se non esatta potrà essere eh peggio del previsto migliore del previsto molto eh meglio del previsto e così via e a questo punto si va eh a delineare la nostra opinione e allora a questo punto possiamo aggiungere il punto 4 che cosa afferma la teoria della corenza ovviamente col punto interrogativo perché è una domanda ogni individuo desidera avete visto qui c'era una discrepanza no tra la previsione e quello che accadeva che la differenza tra l'opinione e la previsione si annulli questo crea un'armonia e poi vedremo che ci sono diverse teorie relativamente alla teoria della incoerenza che possiamo delle sotto quindi teorie o delle sotto categorie che andremo a vedere quando noi ci creiamo un'opinione ad esempio ci siamo creati un'opinione dei miei video possiamo essere entusiasti possiamo essere delusi magari ci capita di vedere un altro video se siamo entusiasti magari continuiamo ad essere entusiasti siamo entusiasti una due tre volte quattro volte si crea un'armonia si crea un equilibrio ci troviamo bene in questo equilibrio continueremo a vedere questi video continueremo a frequentare quella persona perché a un certo punto noi tendiamo all'equilibrio e in questo caso alla coerenza è ovvio che ci crea la mia instabilità invece l'opposto vediamo un video preferisco fare adesso un esempio mi è venuto proprio sui miei video ci piace molto dopodiché dato che ci è piaciuto molto ci facciamo un'opinione positiva lo andiamo ne andiamo a vedere altri il secondo non ci piace per niente dal punto ovviamente siamo in una situazione di quasi instabilità perché non ci siamo non sappiamo insomma se era giusta la prima impressione e la seconda lo andiamo ne vediamo un terzo e ci ripiace e quindi diciamo creiamo anche uno schema questo è nell'asse delle ordinate abbiamo la nostra opinione questa è positiva questa è negativa che cosa succede solitamente che questa opinione quando andiamo a conoscere per la prima volta una persona andiamo a fare delle esperienze all'inizio sarà molto troverà delle oscillazioni molto forti quindi oscillerà tra un'opinione positiva e un'opinione negativa esempio molto positiva poi avvengono degli eventi che ci fanno un pochettino cambiare idea scende poi ricambiamo idea ma che cosa deve succedere che cosa stiamo dicendo che tendenzialmente con il passare del tempo il tempo si trova nell'asse dell'ascisse stiamo affermando che con il passare del tempo lo si può vedere qua la nostra opinione tende a stabilizzarsi cioè tende ad avere un valore stabile nel tempo in questo caso la persona va in armonia ok io penso che così sia abbastanza chiaro anche per magari le persone che hanno una prevalente formazione scientifica a questo punto possiamo fare delle sottodomande la 4a la teoria dell'equilibrio che cos'è noi abbiamo chiamato armonia ed equilibrio eh la teoria dell'equilibrio di fritz heider h e i d e allora è una teoria ovviamente basata fondata quindi è una teoria che è fondata sulle relazioni interpersonali quindi tra le persone che vengono percepite coerenti quindi è fondata eh sulle relazioni interpersonali percepite coerenti che cosa significa? quindi valgono delle proprietà essenzialmente la potremmo chiamare proprietà distributiva o comunque chiamiamola associativa cioè se ho una persona A e una persona B e tra loro c'è un legame di piacere poi ho una persona B e una persona C e c'è un legame di piacere ci si aspetta che ci sarà un legame di piacere anche tra A e C quindi se per esempio le due persone appaiono simpatiche ci si aspetta che si piacciano anche tra loro e se si trovano simpatiche con una terza persona una delle due si trova simpatiche con una terza persona ci sarà questo piacere in teoria dovrebbe propagarsi poi vi è 4b la domanda è la teoria della congruenza di Charles Oskott quindi cos'è o cosa afferma insomma la cosa dice teoria della della congruenza di Charles Oskott Oskott allora vi è un elemento vi è aggiunto un elemento quantitativo che permette di andare a valutare le modificazioni allora la teoria afferma la possibilità di classificare gli atteggiamenti le opinioni e le opinioni lungo una scala che va da meno 3 a più 3 dove meno 3 è molto negativo e più 3 è molto positivo quindi ogni opinione ogni atteggiamento verrà classificato questa è la teoria della congruenza di Oskott poi vi è quindi cosa afferma la teoria della dissonanza cognitiva di di Leon Pestinger quindi ovviamente era una domanda mettiamo quel punto interrogativo è uno psicologo americano e indica una incoerenza che viene percepita quando come per l'esempio precedente quindi indica una incoerenza che si crea quando le credenze contrastano tra loro o con i comportamenti che avvengono quindi crediamo qualcosa di assolutamente negativo in merito a quella persona e poi le esperienze ci dicono il contrario possiamo fare un esempio anche anche di un'incoerenza che può essere di tipo questa volta interpersonale perché sicuramente mi capirete meglio e avviene molto spesso una persona obesa che in teoria si rende conto che il mangiare è obesa magari desidera dimagrire però mangia continua a mangiare tanto una persona che fuma e ha la consapevolezza del cancro dei polmoni e via dicendo ovviamente qui si instaura una incoerenza interpersonale all'interno della persona tra quello che crede e la tendenza comportamentale che attua bene io penso anche che con gli esempi con gli schemi possa essere tutto molto più chiaro abbiamo avuto l'opportunità di portare alla luce diversi psicologi diversi ricercatori diversi pedagogisti diversi sociologi che potete anche andare a rivedere e oppure potete anche lasciare dei commenti allora i commenti li potete lasciare proprio qui sotto al video se vi è piaciuto il video potete mettere un bel pollice in su io ve ne sarò grado vi potrete iscrivere per non perdervi le dirette e i nuovi video e potete anche condividere il canale perché molti non lo conoscono e quando lo conoscono o ne vengono a conoscenza affermano mannaggia sarebbe stato bello conoscerlo prima benissimo io con questo vi saluto e vi auguro una buona continuazione di giornata conoscenza